Assessore Catania invasa da più di 1500 studenti, poverente dalla Calabria e anche dalla Sicilia, una bella manifestazione del rugby per un bellissimo messaggio. Sì, Catania ha accolto Mister Bianco, qui siamo allo stadio Valentino Mazzola di Mister Bianco, doveva dare questa opportunità perché lo spettacolo è veramente bello, il messaggio è veramente importante, tra l'altro oggi per noi è l'apertura della settimana dello sport e mai quanto oggi abbiamo aperto con una bellissima manifestazione, 1500 ragazzi provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria che sostengono dei valori importanti, quelli del rugby, che per noi in effetti ci permettono di riscoprirli, la lealtà, l'ammirazione per l'avversario, la fatica, il piacere di faticare per poi stare insieme e divertirsi, quindi per noi è un grande vanto che Mister Bianco oggi abbia accolto questa manifestazione. I ragazzini si divertono per un messaggio importante, quello che ci regala il rugby, ma a differenza forse di qualche altro sport che spesso e volentieri purtroppo questo messaggio non lo lascia passare? Purtroppo, lo dico, molto spesso ce ne piangiamo le conseguenze noi adulti e ne abbiamo anche grande responsabilità, perché proprio noi di Mister Bianco abbiamo attraversato un brutto momento perché le nostre squadre di calcio, per esempio, uscendo fuori dai confini mister bianchesi, hanno avuto attacchi, quindi la FIGC c'è stata vicino e cerchiamo di riproporre le buone prassi del rugby proprio per instigare i ragazzi alla consapevolezza ecco che è tutto un gioco, abbiamo appeso in ogni struttura nostra come in questi spalti un cartello che ricorda i genitori e i supporters che sul campo gli arbitri ci sono, i mister pure, i ragazzi si devono lasciare giocare liberamente e questo è il messaggio che spero che passi, perché in effetti la bellezza dello sport non può essere macchiata alla stupidità degli adulti. Giarchi! 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 Si attravesse il finale! Si attravesse il finale! No! Ha vinto! Brava! Ha vinto la forza delle regole! Giarchi!